Vedi che sei tu che vengono presso noi? Sono io per il spazio. E ho trovato l'invato, il battigiano, Quando ti ne vengono presso noi? E ho trovato l'invato? Vedi che sei tu che vengono presso noi? Grazie a tutti. Ci sono bambini di 9 anni e ti state caricando. Calmi. Buona ciao, buona ciao, buona ciao, 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 sempre lì è, rasso in montagna, sotto l'ora di un bel fiore. E' quello il fiore del partigiano. Saldini, 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 acqua culo, saldini, saldini, acqua culo, saldini, saldini, acqua culo, saldini.